lettera alla gioventù pubblicata sull'opuscolo messo in vendita il 4 dicembre 1897 visto che nessun giornale in quel momento sembrava disposto ad accettare i miei articoli e poiché desideravo essere assolutamente libero concepì il progetto di continuare la mia campagna per mezzo ad una serie di opuscoli in un primo momento avevo pensato di pubblicarli regolarmente a giorni fissi uno alla settimana poi preferì rimanere padrone delle date di pubblicazione in modo da scegliere le mie ore e da intervenire sugli argomenti soltanto nei giorni in cui l'avrei giudicato utile dove andate giovani dove andate bande di studenti che correte per le strade manifestando il nome delle vostre collere dei vostri entusiasmi provando il bisogno imperioso di revare pubblicamente il grido delle vostre coscienze indignate andate a protestare contro qualche abuso di potere qualcuno ha offeso il bisogno di verità e di equità che ancora arde nelle vostre anime nuove ignare di compromessi politici e delle quotidiane viltà della vita andate a raddrizzare un torto sociale a mettere la protesta della vostra gioventù vibrante sulla bilancia infida dove così falsamente si pesano la sorte dei fortunati e quella dei diseredati di questo mondo andate a fischiare per affermare la tolleranza l'indipendenza della razza umana qualche settario dell'intelligenza dal cervello ristretto che avrà tentato di ricondurre i vostri spiriti liberati all'antico errore proclamando la bancarotta della scienza andate a gridare sotto la finestra di qualche personaggio sfuggente ipocrita la vostra fede invincibile nell'avvenire in quel secolo venturo che portate con voi e che deve realizzare la pace del mondo in nome della giustizia e dell'amore no no andiamo a protestare contro un uomo un vegliardo che dopo una lunga vita di lavoro e di lealtà ha creduto di poter impunemente sostenere una causa generosa di volere che si facesse luce e che un errore venisse riparato per l'onore stesso della patria francese ah quando anch'io ero giovane l'ho visto il quartiere latino fremere tutto delle accese passioni della gioventù l'amore della libertà l'odio verso la forza bruta che schiaccia i cervelli e comprime le anime l'ho visto sotto l'impero fare la sua coraggiosa opera di opposizione perfino ingiusta a volte ma sempre per excesso di libera emancipazione umana fischiava gli autori graditi alle tuglieri malmenava i professori il cui insegnamento gli sembrava sospetto si levava contro chiunque si mostrasse a favore delle tenebre e della tirannia vi bruciava il sacro fuoco della bella follia dei vent'anni quando tutte le speranze sono nella realtà e il domani appariva come il trionfo certo della città perfetta e se risalissimo più indietro in questa storia delle nobili passioni che hanno sollevato la gioventù delle scuole la rivedremmo sempre indignarsi sotto l'ingiustizia fremere e levarsi per gli umili gli abbandonati perseguitati contro i feroci e i potenti ha manifestato in favore dei popoli oppressi si è dichiarata per la polonia per la grecia ha preso le difese di tutti quelli che soffrivano che agonizzavano sotto la brutalità di una folla o di un despota quando si diceva che il quartiere latino si accendeva si poteva star certi che dietro c'era qualche vampata di giustizia giovanile incurante delle precauzioni che reagiva con entusiasmo ai dettami del cuore e quanta spontaneità allora era come se un fiume in piena straripasse per le strade so bene che anche oggi il pretesto è la patria minacciata la franza consegnata al nemico vincitore da una banda di traditori soltanto mi chiedo dove troveremo la chiara intuizione delle cose la sensazione istintiva di ciò che è vero di ciò che è giusto se non in queste anime nuove in questi giovani che nascono alla vita politica dei quali niente dovrebbe ancora oscurare la ragione diritta e sana che gli uomini politici corrotti danni di intrighi o i giornalisti squilibrati da tutti i compromessi del mestiere possono accettare le menzogne più impudenti far finta di non vedere cose che sono già di una chiarezza abbagliante è un fatto che si spiega che si capisce ma la gioventù via deve essere già molto incancrenita perché la sua purezza il suo naturale candore non si riconoscano a colpo d'occhio in mezzo a errori inaccettabili e non abbiano ogni diritto a quanto è evidente limpido di una luminosità onesta da pieno giorno non c'è storia più semplice di così un ufficiale è stato condannato e nessuno si sogna di sospettare della buona fede dei giudici l'hanno colpito secondo la loro coscienza su prove che hanno ritenuto certe poi succede un giorno che qualcuno anzi più d'uno abbia dei dubbi e che dal dubbio giunga poi alla convinzione che una delle prove la più importante o almeno la sola sulla quale i giudici si sono pubblicamente basati è stata erroneamente attribuita al condannato e che il documento è sicuramente in mano di un altro e lo si dice e quest'altro viene denunciato dal fratello del condannato che aveva il preciso dovere di agire così ed ecco che per forza di cose ha iniziato un nuovo processo processo che se ci sarà condanna dovrà condurre alla revisione del primo c'è forse qualcosa di non perfettamente chiaro giusto e ragionevole dov'è la macchinazione dov'è il nero complotto per salvare un traditore che ci sia un traditore nessuno lo nega si vuole soltanto che a espiare il crimine sia un colpevole non un innocente lo avrete ugualmente il vostro traditore si tratta soltanto di darvene uno autentico un po di buonsenso non dovrebbe essere più che sufficiente a quale movente obbedirebbero mai quelli che perseguono la revisione del processo dry fee lasciamo da parte l'antisemitismo imbecille da cui feroce monomania ci vede un complotto ebreo l'oro ebreo che si sforza di sostituire un cristiano a un ebreo nell'infame prigione è una teoria che non sta in piedi le inverosimiglianze le impossibilità crollano le une sulle altre non basterebbe tutto l'oro della terra a comprare certe coscienze e bisogna per forza arrivare alla realtà che poi l'espansione naturale lenta invincibile di qualsiasi errore giudiziario la storia è tutta lì un errore giudiziario è una forza di movimento uomini di coscienza sono conquistati sono assaliti si dedicano in modo sempre più ostinato rischiano la loro fortuna e la loro vita affinché giustizia sia fatta e non c'è altra spiegazione possibile di quanto accade oggi il resto non è altro che fantasmi politici e religiosi abominevoli che torrente stralipato di calunnie ed ingiurie ma quale giustificazione avrebbe mai la gioventù se le sue idee di umanità e di giustizia venissero ad esserne oscurate fosse anche per un istante nella seduta del 4 dicembre la camera francese si è coperta di onta votando un ordine del giorno per stigmatizzare i caporioni dell'odiosa campagna che turba la coscienza pubblica lo dico francamente per l'avvenire che mi leggerà spero un voto simile è indegno del nostro generoso paese e resterà come una macchia incancellabile i caporioni sono gli uomini di coscienza e di coraggio che certi di un errore giudiziario l'hanno denunciato perché ci si ponesse riparo nella patriottica convinzione che una grande nazione nella quale un innocente agonizzasse tra le torture sarebbe una nazione condannata la campagna odiosa è il grido di verità è il grido di giustizia che quegli uomini levano e l'ostinazione che si mettono nel volere che la francia di fronte ai popoli che la osservano resti la francia che ha creato la libertà e che creerà la giustizia e la camera tutti potete vederlo ha certamente commesso un crimine poiché ecco che ha corrotto perfino la gioventù delle nostre scuole poiché ecco che questa ingannata sviata sguinzagliata per le nostre vie manifesta come non si era finora mai visto contro quanto di più fiero di più coraggioso di più divino c'è nell'animo umano dopo la seduta del senato il 7 si è parlato di crollo a proposito di schoiler kessler ah sì che crollo nel suo cuore nel suo animo mi immagino la sua angoscia il suo tormento nel vedersi franare intorno tutto quello che ha amato della nostra repubblica tutto quello che per essa ha contribuito a conquistare nella nobile battaglia della sua vita la libertà prima di tutto poi le maschie virtù della lealtà della franchezza del coraggio civico è uno degli uomini della sua generazione di forti sotto l'impero ha saputo che cos'è un popolo sottomesso l'autorità di un singolo un popolo divorato dalla febbre e dall'impazienza mentre la bocca brutalmente imbavagliata vede negare ogni giustizia col cuore sanguinante ha assistito alle nostre disfatte ne ha saputo le cause tutte dovute all'accecamento all'imbecillità dispotica in seguito ha fatto parte di quelli che hanno lavorato nel modo più saggio e più ardente a sollevare il paese dalle pastoie a restituirgli il suo rango in europa data dai tempi eroici della nostra francia repubblicana e potrebbe credere immagino di aver fatto buona opera e solida il dispotismo ha cacciato per sempre la libertà conquistata intendo soprattutto quella libertà umana che permette a ogni circostanza di affermare il suo dovere tra la tolleranza delle opinioni altrui ebbene sì tutte le conquiste sono state possibili ma ancora una volta è crollato tutto attorno a lui dentro di lui a solo e unicamente rovine essere stato in preda al bisogno di verità è un crimine avere voluto la giustizia è un crimine l'orrendo dispotismo è ritornato sulle bocche è calato di nuovo il più duro dei bavagli non è lo stivale di un cesare a schiacciare la coscienza pubblica è un'intera camera a condannare chi brucia della passione del giusto proibito parlare i pugni colpiscono le labbra di chi tenta di difendere la verità si aizzano le folle perché riducano gli isolati al silenzio mai un'espressione altrettanto mostruosa era stata organizzata e utilizzata contro la libera discussione e l'obrobrioso terrore regna i più coraggiosi diventano codardi nessuno più osa dire quello che pensa per la paura di essere denunciato come venduto e traditore quei pochi giornali ancora onesti sono supini di fronte ai loro lettori resi ormai folli da troppe sciocchezze sentite e mai un popolo ne sono convinto ha attraversato un'ora più agitata più torbida più angosciosa per la sua ragione per la sua dignità allora è vero tutto un passato grande e leale ha dovuto crollare per schoyer kestner se egli crede ancora alla bontà e all'equità degli uomini deve essere di un ottimismo ben solido per tre settimane lo hanno tracinato nel fango solamente per aver compromesso l'onore e la serenità della sua vecchiaia con la protesta di voler essere giusto non c'è tortura più dolorosa per un galantuomo del dover soffrire il martirio della propria onestà si uccide in quest'uomo la fede nel domani gli si avverena lo spirito e se egli muore dice è finita non c'è più niente tutto quello che ho fatto di buono se ne va con me la virtù è solo una parola vuota il mondo è nero e desolato e per schiaffeggiare il patriottismo siamo andati a scegliere quest'uomo che nelle nostre camere è l'ultimo rappresentante dell'alsazia lorena lui un venduto un traditore uno che insulta l'esercito quando il suo nome sarebbe dovuto bastare da rassicurare le inquietudini più diffidenti è chiaro che egli ha avuto l'ingenuità di credere che la sua qualità di alsaziano la sua fama di patriota ardente costituissero la garanzia stessa della sua buona fede nell'assumere la delicata parte del giustiziere se si occupava lui del caso se si occupava lui del caso non era come dire che una conclusione rapida vi sembrava necessaria all'onore dell'esercito all'onore della patria lasciate che si trascini ancora per settimane procurate di soffocare la verità di rifiutarvi alla giustizia e vedrete se non avrete fatto ridere l'europa intera se non avrete messo la francia all'ultimo posto tra le nazioni no no gli stupidi fantasmi politici e religiosi non vogliono assolutamente capire e la gioventù delle nostre scuole offre al mondo lo spettacolo di andare a fischiare un uomo come scheuder kestner il traditore il venduto quello che insulta l'esercito che compromette la patria sa bene che i pochi giovani che manifestano non rappresentano tutta la gioventù e che un centinaio di chiassosi per strada fanno più rumore di 10.000 lavoratori chiusi in casa a studiare ma 100 chiassoni sono già troppi ed è un sintomo doloroso che un movimento del genere per limitato che sia si possa produrre in un'ora come questa nel quartiere latino dei giovani antisemiti è mai possibile che esistano è possibile che ci siano cervelli nuovi anime nuove già squilibrate da questo veleno idiota che tristezza che inquietudine per il ventesimo secolo che sta per schiudersi a cent'anni dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo cent'anni dopo l'atto supremo di tolleranza e di emancipazione ecco che si ritorna alle guerre di religione al più odioso al più stupido dei fantasmi e possiamo ancora capirlo da parte di certi individui che interpretano loro parte che hanno un atteggiamento da conservatore e un'ambizione vorace da soddisfare ma nei giovani in quelli che nascono e premono per il fiorire di tutti i diritti e di tutte le libertà di cui avevamo sognato di vederli splendere il prossimo secolo sono loro gli artefici che aspettavamo ed ecco che già si dichiarano antisemiti vale a dire che daranno inizio al secolo massacrando tutti gli ebrei perché sono concittadini di un'altra razza e di un'altra fede un inizio del genere come appannaggio per la città dei nostri sogni la città dell'uguaglianza e della fratellanza se davvero la gioventù si riconoscesse ci sarebbe da singhiozzare da negare qualsiasi speranza e qualsiasi felicità umana o gioventù gioventù pensa te ne supplico alla grande impresa che ti attende sei tu la futura classe operaia tu getterai le fondamenta di questo secolo imminente che ne abbiamo la fede più profonda risolverai problemi di verità e di equità posti dal secolo ormai agli sgoccioli noi i vecchi gli anziani ti lasciamo l'imponente cumulo della nostra inchiesta molte contraddizioni e punti oscuri probabilmente ma senza alcun dubbio lo sforzo più appassionato che mai secolo abbia fatto verso la luce i documenti più onesti e più soliti le fondamenta stesse di quel vasto edificio della scienza che tu dovrai continuare a costruire per il tuo onore e la tua felicità e ti chiediamo soltanto ad essere ancora più generosa più libera di spirito di superarci nell'amore per la vita vissuta in modo normale nello sforzo tutto dedito al lavoro questa fecondità degli uomini e della terra che saprà bene alla fine far germogliare la traboccante messe di gioia sotto il sole splendente e ti cederemo fraternamente il posto felici di sparire e di riposarsi nella nostra parte di impresa compiuta nel placido sonno della morte e sapremo che tu ci continui e che realizzi i nostri sogni gioventù gioventù ricordati delle sofferenze che i tuoi padri hanno sopportato delle terribili battaglie che hanno dovuto vincere per conquistare la libertà di cui tu in questo momento gioisci se ti senti indipendente se puoi andare e venire come ti aggrada dire sulla tua stampa tutto quello che pensi avere un'opinione ed esprimerla pubblicamente è perché i padri hanno offerto la loro intelligenza e il loro sangue tu non sei nata sotto la tirannia tu ignori che cosa voglia dire svegliarsi ogni mattina con lo stivale di un padrone sul petto tu non ti sei battuta per sfuggire alla sciabola del dittatore ai falsi pesi del cattivo giudice ringrazia i tuoi padri e non commettere il crimine di acclamare la menzogna di fare una campagna insieme alla forza brutta all'intolleranza dei fanatici alla voracità degli ambiziosi tutto questo porta alla dittatura gioventù gioventù si sempre dalla parte della giustizia se mai il concetto di giustizia si oscurasse in te andresti incontro a tutti i pericoli e non ti parlo della giustizia dei nostri codici che è soltanto la garanzia dei legami sociali bisogna rispettarla certo ma è una nozione più alta la giustizia quella che pone come principio che il giudizio degli uomini è sempre fallibile e che ammette la possibile innocenza di un condannato senza per questo recare offesa ai giudici non c'è forse in questo un'avventura fatta per risvegliare la tua accesa passione per il diritto chi si leverà per esigere che giustizia sia fatta se non tu che non fai parte delle nostre lotte di interesse e di persone che ancora non sei né impegnata né compromessa in alcun affare l'osco che puoi parlare chiaro in tutta purezza e in tutta buona fede gioventù gioventù si umana e generosa se anche noi ci sbagliamo stai con noi quando diciamo che un innocente subisce una pena terribile e che il nostro cuore in rivolta si spezza per l'angoscia basta ammettere per un solo istante il possibile errore di fronte a un castigo a questo punto smisurato perché il petto si serri e le lacrime sgorghino agli occhi certo gli aguzzini rimangono insensibili ma tu tu che piange ancora che ancora non hai fatto esperienze di tutte le miserie di tutte le pietà com'è che se da qualche parte c'è un martire che soccombe vittima dell'odio non ti abbandone al sogno cavalleresco di difenderlo e di liberarlo chi se non tu potrà mai tentare la sublime avventura lanciarsi in una causa generosa e superba tenere testa a un popolo tenere testa a un popolo il nome della giustizia ideale e non ti vergogni che ad appassionarsi ad assumersi oggi la tua impresa di generosa follia siano gli anziani dei vecchi dove andate giovani dove andate giovani dove andate studenti che battete le strade manifestando gettando nel bel mezzo delle nostre discordie il coraggio e la speranza dei vostri vent'anni andiamo verso l'umanità verso la verità verso la giustizia